Buongiorno a tutti, dicevo grazie per essere qua, saluto gli esponenti della Giunta presenti, i consiglieri regionali, il Presidente della Commissione Sanità e tutti gli altri che sono anche collegati a questa conferenza stampa. Per noi questa conferenza stampa è molto importante perché è un punto di partenza a cui abbiamo lavorato incessantemente in sostanza per due anni e nove mesi. Come dicevo qua fuori con i giornalisti con cui ci siamo soffermati, sono stati due anni e nove mesi largamente condizionati per un anno e cinque mesi circa dalla pandemia, dalla gestione della pandemia e dalla gestione delle emergenze, i screening, il tracciamento, la vaccinazione e così via dicendo. Però nonostante quell'impegno costante abbiamo iniziato a lavorare sulla riforma, la riforma ha portato al primo passaggio lo scorso anno, ad agosto e lo scorso anno con la creazione del nuovo assetto, le nuove aziende sanitarie approvate nel mese di agosto 2022, da lì è partita l'organizzazione e tutte le procedure per l'individuazione dei direttori generali. Oggi, praticamente a quasi un anno dall'approvazione di quella legge, noi abbiamo questa mattina una nuova operatività al completo con tutti i direttori generali, con le nuove figure che ricoprono i ruoli di ARS e Dipartimento. E quindi siamo orgogliosissimi di presentare ai cittadini marchigiani e a tutti gli operatori del sistema sanitario la nuova squadra, che sarà la squadra che poi dovrà calare sul territorio anche il piano socio-sanitario, che è oggi in discussione in commissione, ma che entro il mese di agosto, prima della pausa estiva, noi vorremmo approvare in Consiglio regionale. È un piano socio-sanitario, ancora ci sono delle discussioni in corso, quindi siamo pronti a raccogliere quelle che possono essere le proposte che potranno migliorarlo, però è sicuramente interprete di una visione che rimette il territorio e il paziente al centro delle attenzioni del sistema sanitario regionale. È un piano socio-sanitario che individua le priorità, individua gli obiettivi, non sta a me oggi ripeterli, abbiamo ripetuti tante volte, e questi obiettivi però devono essere poi calati sul territorio. Saranno calati sul territorio dalle figure che fra poco il Vice Presidente e Assessore della Sanità, Filippo Salalta Martini, andrà a presentare una per una. Mi permetto di aggiungere, chiudendo, che sono veramente orgoglioso del lavoro fatto. È stato un lavoro importante sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista anche delle scelte e di tutti i passaggi. È importante perché abbiamo cercato di tenere in considerazione aspetti gestionali, aspetti professionali, aspetti anche organizzativi e dall'altra parte abbiamo cercato di interpretare le migliori esigenze proprio organizzative del sistema sanitario regionale e contemperate a quelle che sono le esigenze e le conformazioni dei territori. Siamo qua con sette aziende, cinque AST, Torrette e IRCA e dall'altra parte al Dipartimento e ARS. È un'organizzazione, come dicevo, di cui siamo molto fieri e orgogliosi e ecco, prima nel nostro incontro si è detto siamo sul nastro di partenza. Effettivamente è così, da oggi siamo sul nastro di partenza per non solo partire, per calare sul territorio la riforma e i raggiungimenti e gli obiettivi che ci eravamo posti. Ora passo subito la parola al Vicepresidente Filippo Sattamartini. Grazie Presidente, come legittimamente e giustamente ha detto il Presidente Acquaroli, noi siamo qui orgogliosamente per presentare questa squadra che completa tutte le caselle della sanità della nostra regione. Abbiamo, come sapete, nominato recentemente il Dottor Draisci, Direttore del Dipartimento Salute. Queste scelte, innanzitutto vorrei che sia chiaro, sono state fatte sulla base di uno screening di caratura professionale, sulla base delle esperienze dei dirigenti che sono qui presenti, che rappresentano il meglio del meglio tra i dirigenti che avevano presentato la domanda. Il Dottor Draisci innanzitutto è un direttore di lungo corso, conosce bene, avendo una specializzazione dinamica sui conti, è laureato in economia e commercio e noi avevamo molto bisogno di un esperto che naturalmente facesse quadrare un po' i conti e verificasse i conti perché, come sappiamo tutti, in Costituzione ci sono tanti diritti di libertà, tra cui il diritto alla salute che è il diritto fondamentale, ma i diritti possono essere fruiti se sono finanziati. Quindi il finanziamento dell'esercizio dei diritti e l'appropriatezza della spesa pubblica costituisce un obiettivo indefettibile, naturalmente, alla nostra missione. Subito dopo abbiamo nominato la professoressa Carle, saluto naturalmente i colleghi del Consiglio regionale che sono entrati, Linda Lezzi, Anna, per mettere in evidenza come anche la sua scelta sia stata quella di portare l'Accademia, quindi una ricercatrice, una docente dell'Università Politecnica all'interno dell'Agenzia regionale sanitaria, che è l'agenzia che cura sostanzialmente la verifica dei numeri, la congruenza delle risposte della nostra amministrazione. E poi siamo partiti con la nomina dei nuovi direttori generali. La Corsi, in un'azienda come quella di Pesaro, dove dovevamo fondere due aziende, la Storti, dovevamo fondere Marche Nord con l'azienda, l'ex azienda territoriale, non potevamo non scegliere una persona che avesse una visione globale del sistema nella sua qualità precedente di direttore generale dell'Aso. Quindi a lei viene affidata una missione molto importante che è quella della fusione di due aziende e soprattutto di garantire quei servizi che, come abbiamo visto dagli studi, determinano una mobilità negativa verso altre regioni, questo peso della mobilità verso l'Emilia Romagna. Quindi ha una missione complicata, ma noi siamo convinti che tutta insieme questa squadra riuscirà a realizzarla. Sull'area, l'azienda sanitaria territoriale di Ancona, una vecchia conoscenza del sistema sanitario. Quindi il dottore fa un rientro dall'Abruzzo, il dottor Stroppa, e anche qui su Ancona c'è una missione molto delicata che si affida anche al coordinamento con la missione del dottor Gozzini e la missione della dottoressa Capalbo per l'IRCA e Torrette. Diciamo con grande chiarezza, nella provincia di Ancona c'è una grande concentrazione di professionalità e di strutture che devono garantire un coordinamento perché dagli studi che abbiamo fatto c'è una parte dei cittadini anconetani che vanno a curarsi nel Pesarese. Quindi è necessario che la risposta, soprattutto in area vasta di Ancona, passi attraverso questo coordinamento. L'area vasta AST di Macerata è affidata alla dottoressa Corsi. Prevengo qualche telefonata che potrebbe arrivare, siamo in attesa di conoscere l'esito del ricorso giurisdizionale, quindi deve essere depositata a breve in una sentenza, quindi vediamo che cosa succede. Noi in giunta abbiamo voluto rinnovare la nostra fiducia alla dottoressa Corsi che ha dimostrato la sua capacità organizzativa soprattutto nel rafforzare alcuni servizi, soprattutto nell'area cratera e in particolare nella zona di Camerino. Quindi noi stiamo facendo ripartire quella zona terremotata a Camerino e la ringrazio, ringrazio dottoressa Corsi per avervi posto particolare attenzione, ma senza dimenticare che durante il periodo Covid con la struttura di Civitanova, la struttura Covid di Civitanova era gestita da tutto il personale della sanità principalmente dell'area vasta di Macerata, quindi il periodo Covid in cui abbiamo utilizzato la struttura di Civitanova è con la vista in prima linea e di questo io la voglio ringraziare e questo è uno dei motivi per cui poi è stata rinnovata la fiducia dell'Aggiunta regionale, lo ripeto, l'Aggiunta regionale, quindi di tutti i colleghi che fanno parte dell'Aggiunta anche nei suoi riguardi. A Fermo è stato nominato il dottor Gentili, è uno che ha un'esperienza poliedrica dal Piemonte all'Umbria, alle Marche, ha evidentemente una capacità di mettere a frutto che cosa? La necessità che vi sia un riequilibrio di quel territorio, no? Gentili e Fermo devono riportare a casa un disequilibrio che l'analisi dei dati sui servizi sanitari ha dimostrato e questo è stato il motivo al di là di tutto quello che si scrive della sua scelta. Non per ultimo il nuovo dirigente di Ascoli Piceno. La nuova dirigente viene scelta soprattutto per le sue indubitabili capacità organizzative e soprattutto per l'esigenza di restituire all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno la soluzione di annosi problemi che si trascinano addirittura dal 2017. Lo voglio ricordare qui per mia memoria ma non solo per mia memoria anche ai giornalisti. Sostanzialmente dal 2017 il personale della sanità di Ascoli Piceno attende che vengano remunerati con dei trattamenti relativi all'indennità di vestizione, cioè sono emolumenti stabiliti dal contratto. Dal 2019 una legge regionale aveva previsto la riparametrazione dei fondi della contrattazione decentrata e questa riparametrazione nonostante la legge regionale del 2019 non è avvenuta e procedimento che noi abbiamo finanziato con due interventi derivanti dall'aumento del 5% della possibilità di spesa sul tetto del personale. Quindi stiamo mettendo mano, stiamo risolvendo i problemi annosi di Ascoli Piceno che avevano generato nei mesi precedenti una conflittualità piuttosto accentuata, ma lo voglio ricordare a me stesso, erano problemi degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e questi problemi non erano stati neppure risolti con una legge regionale. Quindi è chiaro che noi dobbiamo affrontare delle problematiche molto complesse, non per ultimo una battuta sui livelli essenziali delle prestazioni. In un paese democratico è legittimo protestare, è legittimo affermare perché la verità assoluta non esiste, però non è legittimo dimenticare che la regione Marche è la terza regione in Italia sui livelli essenziali e assistenziali e quest'anno nel trasferimento del Fondo Sanitario Nazionale riceveremo un aumento di finanziamento. Ne abbiamo discusso con gli assessori regionali della sanità tre settimane fa e probabilmente se le Marche avranno un trattamento più alto probabilmente ci saranno altre regioni che cedano un pezzo di quella quota. Dire che ILEA e le liste d'attesa devono essere migliorate lo sappiamo, siamo perfettamente consapevoli e dobbiamo farlo. Dire però che la situazione è peggiorata questo non è vero, questo non è vero sulla base di dati oggettivi che possono essere confutati solamente con dei dati di pari natura. Quindi dire che le liste d'attesa sono peggiorate non è vero, non è vero. Rivendico poi a nome dei dirigenti della sanità, quindi non all'organo di indirizzo politico, che siamo stati la regione più efficiente nella somministrazione di dosi di vaccini e per chi riteneva di non vaccinarsi il trattamento con gli anticorpi monoclonali. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato che il sistema produttivo delle Marche basato sulle piccole e piccolissime imprese potessero continuare a produrre perché se i lavoratori si assentavano dei mesi per il Covid il livello di produttività del sistema non sarebbe stato lo stesso. E rivendico all'efficienza del sistema sanitario della regione Marche il fatto che in questo primo trimestre abbiamo esportato 13 miliardi all'estero che hanno fatto aumentare il prodotto interno lordo in misura superiore all'1%, quindi siamo una delle nazioni che ha aumentato il prodotto interno lordo. Oggi mi pare che ci sia la presentazione della Cina che non va proprio bene, leggevo dai giornali e se mi permettete questo è stato il frutto anche del sistema sanitario, quindi al sacrificio, alla professionalità di migliaia di donne e di uomini che lavorano. Nei prossimi giorni avremo ulteriori notizie perché stiamo chiudendo l'accordo con i medici di medicina generale, è in corso la trattativa con i sindacati della dirigenza sanitaria per rafforzamento dei pronti soccorso, la fronte naturalmente dei 40 gradi che si respirano fuori e dei 2 milioni di turisti che arriveranno nelle Marche, però dire che è peggio la sanità che oggi c'è rispetto al passato non è vero, quindi dobbiamo raccontare anche le cose sulla base di una valutazione oggettiva e fattuale. Io Presidente non ho altro. Bene, grazie, io il Vice Presidente ha presentato tutti, non so se proprio in maniera stringatissima vogliono fare un saluto oppure se facciamo le domande, un po' diciamo anche, credo che giusto per identificarsi e presentarsi partendo da Dottor Gozzini una presentazione del... Buongiorno a tutti, grazie, io ricopro il ruolo direttore generale dell'azienda ospedale universitaria delle Marche, quindi l'azienda che diciamo che trasversalmente diciamo è regionale, quindi va a servizio di tutti i cittadini della regione con le sue specificità, le sue eccellenze, le sue qualità e chiaramente io in sinergia con i colleghi che andranno a ricoprire i ruoli nel territorio, siamo a completa disposizione del sistema e è chiaro che il nostro sistema si regge su un'integrazione di rete ospedale-territorio di cui ne facciamo parte e ci renderemo ovviamente sempre parte attiva per risolvere quei problemi della sanità che sono mai trasversali sotto il territorio nazionale. Sì, buongiorno, sono Dottoressa Corsi, Asta Macerata, saluto tutti, ringrazio per il Presidente, il Vice Presidente, Assessore Saltamartini per belle parole, per il riconoscimento che mi è stato conferito, in questo momento diciamo un po' difficile, però restiamo ottimisti e sempre più impegnati in questa progettualità comune e nella collaborazione e come dicevamo stamattina nel lavoro di squadra per dare sempre di più ai cittadini un'offerta sanitaria migliore. Grazie a tutti. Maria Capalbo, Direttore IRCA, allora tre parole trasversali, sfida, sistema e squadra. Poi invece parole che attengono all'IRCA e iniziative dell'IRCA sono la medicina di prossimità, la medicina di iniziativa, la digitalizzazione e l'integrazione tra i vari professionisti e l'adozione di nuove politiche del personale. Grazie dottoressa, dottoressa Carle. Flavia Carle, sono una biostatistica, come già è stato detto vengo dall'università, ringrazio il Presidente e tutta la Giunta che mi ha nominato per l'occasione di mettere a disposizione la mia esperienza di accademica al servizio dei cittadini nell'ottica di una vera ricerca traslazionale. L'ARS potenzierà il suo ruolo di fornitore di evidenze di supporto alle decisioni, evidenze scientifiche di supporto alle decisioni e affronterà insieme ai colleghi qui presenti, direttori generali delle aste e delle aziende, il ruolo di coordinare gli sforzi tutti insieme per migliorare ovviamente la salute dei cittadini. Grazie. Grazie dottoressa, dottor Daishi. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie Assessore. Alla fiducia che mi è stata conferita io metterò il mio massimo impegno in termini di responsabilità nei confronti dei direttori generali dell'Assessore della Giunta ma soprattutto dei cittadini marchigiani. Gli elementi principi sarà comunicazione, ascolto e soprattutto squadra con tutti quanti i direttori generali. Insieme sicuramente faremo un ottimo lavoro. Grazie dottor Daishi, dottor Gentili. Buongiorno a tutti, sono Gilberto Gentili, anche io ringrazio ovviamente il Presidente della Giunta per la fiducia che mi è stata accordata e con grande piacere e con grande onore che dopo aver girato un po' l'Italia tra come diceva l'Assessore Piemonte, Calabria e Umbria torno nella mia regione, io sono mattigiano puro sangue, decigenerazione ed è con orgoglio e con volontà che mi appresto a vivere questa nuova avventura che ha uno spessore diciamo di efficienza ed efficacia che tutti noi capiamo perfettamente perché la sanità è effettivamente un punto cruciale della vita dei cittadini. Grazie. Grazie a lei, dottor Stroppa. Buongiorno a tutti, sono Stroppa Giovanni, io ringrazio assolutamente il Presidente e il Vicepresidente per l'attenzione anche che ci hanno concesso il primo giorno di insediamento sia mio che della dottoressa, aver fatto questa riunione proprio l'attenzione a voler dire la squadra è pronta, ci siamo, stiamo partendo. Chi parla senza conoscere bene il sistema io tengo sempre la distanza ma io già il clima che ho sentito questa mattina, cioè il fatto che ci siamo ritrovati e il fatto che questa giunta abbia avuto il coraggio di fare delle scelte importanti e quindi comunque andare in certe direzioni, il clima che l'ho trovato secondo me è foriero di, io ritengo di un lavoro che faremo e faremo insieme perché proprio il discorso è proprio questo, se facciamo rete, l'ha detto prima l'assessore, soprattutto tutta la regione perché noi siamo il sistema regione ma soprattutto nella nostra area Torrette, IRCA e AST dovranno fare sistema perché noi soprattutto andiamo a incidere su uno stesso territorio e quindi dovremo assolutamente lavorare insieme, io sono convinto che non ce la faremo, sono convinto che gli elementi ci sono tutti per farcela, quindi sarà solo colpa nostra se non ce la faremo, grazie. Noi ce la faremo, dottoressa Naldalini. Mi alzo solo perché non riesco a spostare la sedia, buongiorno a tutti e ringrazio il Presidente, l'assessore Saltamartini e tutta la giunta per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina, sono l'elemento di novità all'interno di questa squadra, all'interno di questa regione. Io porterò la conoscenza che ho acquisito in questi anni di lavoro sempre in sanità, lo porterò all'interno di questa squadra e all'interno dell'asta di Ascoli nuova. È un'asta che già l'assessore ha detto ha degli elementi di criticità ma sicuramente avrà anche degli elementi molto positivi che cercheremo di valorizzare e di portare a sistema. Posso solo dire che ho già ricevuto una grandissima accoglienza, quasi una gara di solidarietà per il mio insediamento all'interno della provincia e quindi le premesse per lavorare bene all'interno di questa squadra e con questa giunta ci sono tutte. Abbiate un attimo di pazienza, dovrò imparare a conoscere tutto, quello che avrò intorno per poter lavorare, le relazioni, le persone, però io ci sono e sono a disposizione. Grazie davvero a tutti. Grazie a lei dottoressa Natalini, dottoressa Storti. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Che dire, io non sono il nuovo elemento però penso di sapermi riciclare nel senso positivo perché per me è una grande sfida lavorare nella fusione di queste due aziende, cercherò di prendere il meglio di entrambe perché ognuno aveva qualcosa di bello e qualcosa di meno bello, quindi valorizzazione del personale, rimettere insieme i percorsi attraverso un sistema di rete cliniche, dare ai cittadini una risposta in sede per evitare di spostarsi fuori e dare soprattutto una risposta di qualità e puntare su alcune cose che sono la medicina di genere, la trasparenza, percorsi clinico-assistenziali e mettiamoci anche l'impegno di abbattere le liste d'attesa con un criterio però di appropriatezza e di correttezza, integrando quelle che sono liste d'attesa prese in carico dei cittadini e screening e oncologici che abbiamo nella nostra regione. Ce la metteremo tutta, la squadra io credo che sia una squadra vincente, siamo una grande squadra di calcio che andiamo avanti tutti insieme. Grazie. Grazie dottoressa Storti, se non ci sono domande noi avremmo finito. Dottoressa Storti, se non ci sono domande noi avremmo finito.